Vuoi avere la mia squadra? Vuoi avere i miei crediti? Bene, passa su Bitcoins, il link lo troverai in descrizione, usa la parola malati15 per avere il 5% di sconto E basta, devo andare prima al cesso Ecco, ho fatto quello che dovevo fare E benvenuti ragazzi, qua è con voi come sempre boss prova, oggi andremo a fare un mini pack opening con ben 150.000 credit da spacchettare Andiamo subito al negozio ad aggredire questo cazzo di negozio e ad aprire il primo pacchetto Dai, vediamo cosa ci porta Gonzalo di Guai, niente, anzi no, ci ho portato mille crediti addirittura, incredibile Vai Lionel Messi, ti supplico Lionel mi trova gli Argentoni, gli Argentoni E per ben trovato questo magico giocatore, che se avete un problema alla bocca, lui è quello da pronunciare Mirz-Bez-Bezchi, perfetto, l'abbiamo trovato Sciogli lingue Schifo tutto Maurizio Ancora i crediti I crediti Io ne ho messo Un messaggio ragazzi Un messaggio maledetto Inic Stemma della Las Verona Tutto via via Non vi voglio Grisway Griezmann Montari Quanto sei brutto Montari Bua bua tang Grisway bua tang Fabiano Ma te buco il Mortacci sua Abbiamo trovato Jesus Navas Ma quanto vale sto Navas? Mille credit Mamma vaffa Navas Gonzalo Iguaino Schippalo Mangala Ti piglia manganellate Mangala Aguaro Poi ruba Balsano Balsano te spaccolano Mortacci vostra Griezmann Young Podolski Young Podolski Non valete Una Schippa Distrugge Si Quadradino 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 Del Chelsea Speriamo che valga Qualcosa Quadradino Del Chelsea E' già scesa 50.000 credit Ma va bene Perché noi in ogni caso Non troviamo Una Schippalo Martin Ancora crediti Ancora crediti Schippa Schippa Sock Teis Sock Teis Uebo 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 Porco Schifo Non sballo Mi piace Higuaino Porco Schifo Un pacchetto Del merda Griezmann Ti suppico Morales Morales Tiratemi Un po' Su di Morales Fatemi Trovare Messi Fatemi Trovare Ronaldo Per la terza Volta Non per la Prima Per la terza Volta C'era Schippa Eeeh Offere Quanto sei brutto Minchia Sei più grosso Tu della carta Questo qua Stato Gianender Traore Vai tra Vai tra Vai tra I critiche Gli spado Sono io Schippa Un telar Class Gian Un telar Schippa Mamma mia Caldwell Io non ho Caldwell Non per questo C'ho il giacchettino Mortacci tua Sto trovando Solo Merda Ragazzi Per oggi Il video è finito Vi ringrazio Per averlo visto Lascia un bel like E soprattutto Passa dalla mia pagina Facebook Ed iscriviti al canale E ricorda Io questi 2 milioni Li ho presi da Vipcoins Dunque Troverai il link Qua sotto Nella descrizione Per oggi è tutto Bella ragazzi Turned down For what Turned down Turned down For what For what Turned down Turned down For what Turned down For what Turned down